Il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione, come era la forma che prendeva nella precedente legislatura significativamente diversa, è una misura che funziona quando dà una rete di sussistenza a chi non può lavorare. E forse fu una colpa della precedente legislatura e dei governi della scorsa legislatura non farlo prima e non farlo con più risorse. Dov'è che il reddito di cittadinanza va a urtare il funzionamento di un'economia? Quando è una misura generalizzata rivolta anche a chi può lavorare e crea delle distorsioni come queste. È evidente che la prima reazione che uno può avere è per forza pagate di più i lavoratori e non ci sarà problema. Ma il costo del lavoro non è una variabile indipendente, come si diceva negli anni 70, dipende dalle condizioni della competitività dell'economia. Non è che basta alzare i salari per risolvere i problemi perché il salario è anche un costo per l'impresa e l'impresa deve essere in grado di sopportare quel costo che sostiene. Traduco e concludo. Dobbiamo lasciare il reddito di cittadinanza come misura contro la povertà che ha funzionato bene da quel punto di vista. Ma è evidente che sulle persone che possono lavorare abbiamo il problema opposto. Abbassare le tasse e dare anche quella che noi chiamiamo l'imposta negativa. Cioè aiutare chi prende troppo poco, i working poor's, ma a condizione che lavorino. Così il sistema si sposta dal sussidio e dall'assistenzialismo all'incentivo al lavoro che è quello di cui noi bisogno senza andare a rovinare il supporto alla povertà. C'è quello di Those Ford Così sa83